Con qualche ora di ritardo analizziamo insieme la sfida che l'Inter ha pareggiato in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Ho preferito far passare queste ore per cercare di analizzare meglio la partita e non farlo subito a caldo, vedere ciò che è andato e ciò che non è andato. Certo, l'Inter ha sicuramente dominato e per occasioni gol meritava di vincere, visto che almeno nel primo tempo ci sono state 4-5 nitide palle gol tra Lukaku che ne ha venute due, una davanti al portiere, una alla traversa, Barella che ha colpito la traversa, Lautaro che ha saltato il portiere di testa e poi non è riuscito ad avere quel guizzo necessario e la lucidità necessaria per insaccare. Insomma, anche un po' di sfortuna nella partita di ieri, però i valori delle due squadre erano così diversi che parlare solo di sfortuna probabilmente è riduttivo. Sicuramente non si può parlare di un problema a livello finalizzativo dato che comunque l'Inter ha sempre segnato in queste prime partite e anzi si era parlato di un problema difensivo che sembra averlo in parte risolto, non subendo due partite. C'è però una cosa in particolare che non mi è piaciuta e è il modo di giocare della squadra. Nello specifico ho potuto notare soprattutto nel primo tempo questo avanzare soprattutto di D'Ambrosio che andava a sovrapporsi non ad Hachimi ma andava ad aggiungersi nel reparto offensivo si veniva a creare una sorta di 2-3-5. Insomma, anziché 3-5-2, 5-3-2, due difensori. I tre centrocampisti che erano Barella, Brozovic e Bidal e cinque attaccanti con Hachimi e Young, Lautaro, Lukaku e D'Ambrosio. Un affollamento incredibile che secondo me non portava altro che ulteriore caos in un'area già molto affollata dato che lo Shakhtar difendeva in 15 metri e si chiudeva spesso in difesa. Questo avanzare tra l'altro di D'Ambrosio a mio avviso chiudeva gli spazi ad Hachimi e non gli permettiva di fare quello che sa fare meglio, magari cercare l'1-2 con scatto in profondità bruciando sul tempo l'avversario data la velocità dell'esterno marocchino. Insomma, è questa cosa che non mi è piaciuta tanto, questo continuo avanzare di D'Ambrosio solo in alcune circostanze di bastoni sulla linea offensiva. A mio avviso D'Ambrosio doveva restare dietro o comunque cercando il dialogo con Hachimi e non andare a raggiungersi anche lui né negli attaccanti. Vero è che lo Shakhtar era tutto chiuso indietro e quindi magari i giocatori erano anche invogliati nell'andare ad attaccare per cercare di sfondare in qualche modo il muro ucraino. Questa cosa non mi ha convinto più di tanto, certo Lautaro ha giocato male come tutti hanno ormai detto, quindi è sodato, stenterei, comunque aspetterei prima di mettergli la croce addosso, alla fine ha sbagliato due partite e nell'arco della stagione penso che un po' tutti sbaglieranno più partite, visto che anche nel derby nel primo tempo era stato il migliore in campo dell'Inter e nel secondo magari si è un po' spento, può risentire anche della fatica, ha giocato sempre ogni tre giorni e quindi ci può stare, perché possa avere un attimo di mancanza di lucidità. Detto questo ci vediamo con l'analisi della prossima partita tra Inter e Parma in programma sabato alle 6, deciderò poi se farlo a caldo o al massimo il giorno dopo e auguro una buona serata e buon fine settimana dato che comunque ci avviciniamo al weekend. Grazie e iscrivetevi soprattutto al canale YouTube, su YouTube mi trovate come Armando Arenillo e seguitemi su Instagram. Grazie.